musica 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 ciao a tutti ragazzi sono Merlox siamo qui nel primo episodio del nostro nuovo survival amplified lo faremo in single player così perchè ci va e aah aah un intorno aah 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 dopo questo intro la serie finisce qua quindi se vi è visto ti piace? ok survival vanilla amplified mfk natural 1 2 3 ci sta sempre o c'è la crafting bravo io e lei allora io intanto direi per chi non sapesse cosa dire amplified è tipo aspetta 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 spiego in maniera molto tecnica quello quello e quello montagne della madonna risolto c'è una casella strega da sotto su serio c'è solo un problema tipo come scendi esatto e io direi tipo di fare una cosa tattica di scendere da sto posto e infatti allora aspetta che prendo la crafting intanto perchè non ho voglia di craftarmi 600 crafting table cosa che avverrà sicuramente eh ok hai testo sotto controllo oh forse forse ci arriviamo all'acqua sto laggando no 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 sì ci arriviamo ok 360 oh ho piazzato ho piazzato un log vabbè sta di tipo io vado io vado non ci sono cesti qua nella roba della strega no però c'è un grande rolle mi sa sì c'è una crafting oh c'è pure un col e un'altra crafting vabbè la lasciamo qua io direi di andare verso quelle montagne là perchè mi ispirano sì ma qua c'è del col c'è del col eh io non c'ho il piccone ah sì ce l'ho io sì l'ho fatto prima no a me serve cibo io sono già stanco siamo già stanco siamo in normal oh diorite eh aspetta te lo faccio di solito ah da notare che io tipo non ho mai giocato nella 1.8 cioè ho giocato però mai comunque se noi blocchi quindi sì a me piacciono un casino quello bianco mi piace un casino perchè è tipo stra simile al marble della delle mod quindi è bellissimo è bellissimo è bellissimo solo perchè è simile a quello delle mod è mod in vanilla basta ce n'è uno che fa cagare che è tipo quello quello giallo quello arancio rosa quello fa cagare ti facciamo dare tutti i colori quello giallo quello giallo quello giallo quello azzurro ah ok mi ha posto vengo che mi piatti la grafting si qua oh c'è fai due piccoli così e due spade vai attenzione è programming ok dove sei? allora dovremmo dire che è tipo un episodio test si ah esatto questo è il primo episodio quindi lo facciamo tutti e due entrambi perchè noi siamo proprio che possiamo e invece dal prossimo ne faremo tipo uno testa perchè why not si tipo a fine video diremo chi dove trovare il primo forse perchè 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 uno dei due non entra io gli ho detto che ci stiamo sta pure tutti tra che tanto vai oddio oddio questa roba scappa questo cos'è? no ok è un coniglio ahah da cibo? non mi ricordo sei da una raw rabbit credo che sia tipo la zampa di coniglio vai che la conciamo subito si e in più mi ha dato pure una pelle si ah la pelle in più che se ne metti 4 tipo ne fai ne fai una normale ah buono vedo della clay da buono io direi di adesso scegliamo tipo un posto dove faccio una mini base oh ci sono delle peccari uccidiamo le peccari adesso dancibo si è vero meglio ok ok proprio i wp attenzione quanti alana hai? eh una anche io serve un po' di più era meglio forse dosarle però vabbè questi sono solo a svettare io sto crepando di fame oh mi è cretata una mela nell'inventario tipo magicamente vabbè ok mangiamo una mela mangiamo le tele a factory che io sono già abbastanza pieno adesso e teniamocela faccio un ascia ok ragazzi diteci soprattutto quello che volete vedere in questi episodi perchè sennò non sappiamo cosa fare grandi minchiate grazie comunque è bellissima sta cosa perchè io adesso sto laggando tipo di fps in vanilla e invece con 140 mod vado da dio quindi eh ah buono proprio c'era c'era un'altra effettura no ma credo che sia il server che lagga un basso che è mossa in costa ehm 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 ringraziamo ringraziamo gentilmente tordjk che ci ha offerto la possibilità di creare questa serie offrendoci gentilmente io inteso verso ehm ehm no no io sto tipo girando ma so dove sei ehm offendoci gentilmente ehm user del server non è vero cioè ce l'ha dato lui e mi raccomando ce l'ha dato lui e mi raccomando uh c'è un coniglio ehm ehm ma è piccolo questo sai che è tipo già notte e noi l'abbiamo con ce ne sono dettagli ma mi ha dato un cazzo questo coniglio che è l'altro dove sei ti ho perso anch'io io sono tipo qua dove c'è l'acqua io sono tipo dove ero prima ah dove c'era la fornace prima oh c'è uno scheletro ehm give me your bones oh attenzione da quando uccide la gente dal achievement uh c'è uno slime ehm ma dove stai c'è sto girando alla caccia c'è un creeper e dammi delle indicazioni ehm sono dove siamo alterrati prima con l'acqua eccoti ah posso ti vedo ti vedo ti vedo ti ho visto anch'io ciao io direi di andare tipo verso quelle montagne la si che fanno fighe fanno fighe andiamo andiamo proprio le fanno loro na 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 ehm copy ipod poca figata si a casa prendessi fiori mi piacciono belli fiori fiori manciamo i fiori blue orchid sono i fiori per angel sono i fiori per angel sono i blue parkid i blue park id oh ehm oh è pieno E però non puoi esplodere. Un altro. Oh, ok. Oh, mi ha dato delle ragammerda. Ci sono le canne. Ce le ho anch'io, ce le ho anch'io un po' nell'inventario. Oh, altri blu cosi. Ho perso le montagne dove volevo... Oh, ok. Non c'erano tricate. Ho perso le montagne, no. Porky, 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 porky. Cosa sta lagando? Come sta lagando? A me no. Non lo so, c'era lo scheletro che laggava. Cioè, era il cheater. Era il cheater. C'era la protezione anti-hack che l'ha fatto bloccare, ragazzi. Oh, c'è un maiale. Scheletro e ne ho ucciso tipo 25. No. Scurido, porco, che cade nell'acqua. No, c'è il bambino di merda. Io voglio... Voglio cose. Capito? Dove sei? Ma io tipo ti ho perso di me. Eh, anch'io. Io sono ricordo. Questi sono... Quasi in cima a un albero. Ah, ti ho visto, ti ho visto. Sono diseguitato. Sono sugli alberi. No, no, ti ho visto, man. Io no. Ah, ok. Sì. Sì, lo diseguita. Senta. No! Questa la metto, ragazzi. Ragazzi, sali, sali. Guarda, guarda quanta roba. Intanto abbiamo due crafting. Sono qui perché ci si guarda in maniera minacciosa. Dove sta? Qua sotto. Esplodi. Bravo. Almeno c'è dato un po' di... Eh, guarda che base. Ecco, questa è la nostra base. Vi piace? 10 like. In questo episodio è tutto. Dunque, 10. 805. Madonna, ste montagne quanto sono figli. Io voglio fare tipo una casa lì. Ho deciso. Mi serveva il cibo perché una brutta persona non posso più correre. Ehm, vieni qua che ce n'è, tipo un sconno. Cos'è? Vabbè. Va bene, va bene. Questo qua è un... È un porchid. Un porchid. È un porchid. Viva il porchid. Mettiamo dei segni... Cioè, dei segni di protezione per la nostra base. Cioè, marchiamo il territorio con il piscio. Ehm... Io intanto prendo un po' di legno. Io ho messo un po' di porchidi attorno, per sicurezza. Ah, ok. Ecco, i feroci che mi scrivono Today, Tomorrow e Toyota, quando noi stiamo registrando, è una cosa bruttissima. Sarà il TS che sbanda? Ancora? No. Ah, meno male. È scala bello che è. Hanno rotto il cazzo. È molto. Io dico... Io ho tipo un po' di legno. Oh, Merlo, tu hai no message. No, non holama contare. Ti ho protesters. Posso... Adesso c'è per il bambini. Se non l'interobaldita 상u da... Supergroup. Ok, sara zeg. Eh, dunque... Ritorniamo, qui m'è al video... World of War II, doto... Activ invoc esos ormanno? faccio ma che territorio andiamo a dire di andare su quelle montagne la andiamo a dire al aspettiamo che passi da noi avete rotto il cane che cazzo cazzo è matto ci sposta la gente nella stanza perchè c'è un vaso di fiori nella cenza non lo so c'era nella casa della strega ma scusami perchè ho fatto una cesta se poi dobbiamo andare c'è una domanda a cui non risponderemo mai neanche alla fine della serie ma forse è tipo verso l'episodio 900 che non ci sarà mai le nostre serie 1,2,3, basta questa è una serie speciale ma forse speciale c'è uno slime perchè non c'è arriva da 6 al senso episodio è esagerato così tanti ci conviene di muoverci così in questo episodio troviamo casa e buona prendo un po' di slime volerivo intanto vado di là seguo la direzione di fiori vai vengo anch'io di fiori lei raccolta tu tutta la roba si si anche la cesta anche i fiori anche i fiori soprattutto i fiori vuoi del cibo? tieni sti cazzi stanno andando al 900 tipo fps mi sono dimenticato di limitarli vabbè anch'io anch'io l'ho già limitato boom oh ottimo boost vai 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 che lo uccido vai con boost fishing si naturalmente noi chiafferemo quale cose perchè sono molto utili minchia oh 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 c'è uno scogliattolo c'è un campo è buono c'è una caverna c'è una caverna è piccola io direi che mettiamo tipo il campo qua per adesso che c'è la caverna ah 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 c'è uno scherzo vai 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 eh ma aspetta 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 un'idea geniale il carbone ce l'hai te? io faccio delle torce un po' di torce vai dove lo prendo nello scarico naturalmente in questa serie non citeremo ma come si fa citare? in vanilla cosa vuoi citarti? i blocchi di diamante il giorno dopo che cazzo sono andati in caverna 700 blocchi di diamante no ma non abbiamo citato ma so neanche se siamo patti si si ti ho patti io ah ok non si sa mai ho trovato un blocco di quelli nuovi ok qua tipo c'erebbe una cesta siamo troppo trasga per fare le ceste quindi non le faremo c'è proprio no teremo tutto nel diventario come i bravi cani si ah è vero che adesso tipo facendo una porta te ne da tre te ne da tre cos'è l'imbrazio della Sheldas quale usare? che cosa? cosa intelligente in un video bello dai che noi abbiamo fatto oh c'è c'è il blocco bello 15 minuti di registrazione o quasi 20 abbiamo tratto solo merda però questo è il dettaglio ok chiudiamo questa acqua che mi fa salire il nazismo sto prendendo i blocchi belli quanti cazzo ce ne sono? guarda che roba dai acqua sciogliti è impressionante ci sono troppi blocchi ho detto ho appena detto una cagata però finito acqua sciogliti acqua sciogliti è un ordine guarda guarda vieni qua guarda quanti ce ne sono e aspetta che prendo il call sennò poi come tutte le serie vanita finiremo il call guarda quanti ce ne sono tu prendi tutto che faremo casa solo con quelli si ma è una cosa assurda guarda il ne ho tipo uno stack e mento nell'inventario è come la marble nella tec no è peggio ah peggio quindi per chi non lo sapesse tipo la marble nella tec praticamente tu cagavi marble però fai niente ma anche nel mio anche nel mondo che ho adesso ho fatto i muri nella stanza tipo sotto tutta con la marble e ce ne ho ancora tipo 26 stack metti il query non trovi più cobblers non trovi marble direttamente ma poi si sono solo ho finito il piccone ho finito un piccone di stompa ce l'ho io in legno ce l'ho io in legno si ma anche io ce l'ho in legno ancora ce l'hai di sta merda anche qua ce l'ha oh basta ce l'ha troppa lasciamola lì guarda guarda quanta ne ho presa qua quanti blocchi uno stack e quasi due stack buono siamo ricchi vendiamo 5 euro per la donazione fate la manazza che cosa che vaso della madonna lo sai che abbiamo il vaso possiamo metterci dentro il fiore che piace a angel oh il fiore che piace a angel è vero ma magari non piace neanche ah no ma angel ormai gioca lol non gioca più a michael oh c'è nel ferro e nessuno l'ha cagato c'è nel ferro oh lì c'è 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 uno zombie di quelli porchi più piccoli quelli stronzi vero si esatto aspetta che cuociamo ah beh ma è poco chi va giù aspetta no ok scherzo finisce subito c'è solo un po' di cuore che non voglio riprendere aspetta facciamo un vaso cioè proprio quando tu entri nella nostra casa cioè proprio ti deve piacere la nostra casa ok mamma mia va che casa si chiude il cuore la stava anche un'utilità perché così la gente non spawna ah ma fa un culo per preso può prenderci rosso qui c'è un'altra caverna bella finisce subito ehm vabbè e nulla da quanto sembra gestando 17 minuti e 54 secondi e non è meglio tipo concludere il video si dici eh no proprio non dobbiamo dire dove finirà il nostro dove finirà il video beh sono tutti i c anali no no questo si ma quello dopo ah quello dopo boh io comunque mi sono fatto la spada e il piccolo inferno ok buono naturalmente bene a caso guardate entrambi i canali e vedrete dove avviene ahahah guarda ciao poi io scriverò in fondo al video io penso che ne faccio tipo se riusciamo a registrarli bene ne faccio tipo due a settimana in questi video ciao creeper va bene quindi io direi di concludere il video qua quindi oh ho trovato fiori tipo come si chiamano questi è quelli blu lilac lilac ah il lilac bellissimi bellissimi blu orchid lilac orchid lilac allora per coloro che stanno guardando il mio video vi ricordo di dare nel canale di merda per vedere la sua visuale e che ero l'incontrati stava quasi per crepare tipo sì sì anche naturalmente shit no cazzo 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 creeper vengo io vengo io vengo io fallo esplodere aspetta no l'ho ucciso ma c'è tipo una cavanda gigante qua sopra vabbè la esploriamo nel prossimo episodio che sarà sul canale di qualcuno che sarà sul canale di qualcuno ma per adesso è tutto io vi ringrazio per la visione vi rimando il episodio che caricherò oh e oh ciao ragazzi wow bella 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 bella